eccoci qua pronti mancano ancora dieci minuti ma intanto ci colleghiamo vediamo se si vede chat dal vivo ecco qua in diretta sul tuo canale perfetto abbiate pazienza devo andare a vedere intanto che prepariamo la chat dal vivo perfetto qui ci siamo già da vivo vogliamo si può scrivere qualcosa bene siamo già in dieci in ben 11 bravissimi bravissimi ho cominciato qualche minuto prima intanto che aspettiamo che arrivi un po di gente stiamo vedendo sto vedendo anzi sto sistemando qualche coltello appunto per per la prova parleremo un po di coltelli dai fissi ai chiudibili un po riassunto in generale di quelle che saranno poi le nostre le nostre opzioni allora dovrei poterlo vedere anche da qua il mio canale devo andare il tuo canale ciao bruce ciao una buona serata te una buona serata a tutti sto cercando di capire se riesco a o ecco qua ecco qua così posso su una su una su una device e sull'altro rispondere a tutti ecco ovviamente poi potrete fare anche delle domande quello che possiamo fare ciao andrea ciao andrea ciao a tutti allora ciao a tutti siamo quasi quasi pronti è una postazione provvisoria vediamo un po se così può andar bene per le prossime poi per le prossime dirette che faremo la mia intenzione fare una diretta settimana avevamo avevo fatto un sondaggio questa primavera mi sembra adesso non mi ricordo più non ce l'ho qua disponibile ma questa primavera e mi avevate detto l'orario le 18 la domenica oggi è lunedì non è domenica ma il giorno festivo un giorno di pioggia e e quindi mi sembrava il caso l'altro giorno trovava partiamo facciamo la prima diretta almeno vediamo un attimino come come sistemarci anche qua come fare determinate cose anzi mi servirà un rialzo e ci mettiamo sotto un'isola per fare rialzo vediamo si coltelli servono anche per questo non è un rialzo che va molto bene sì sì perfetto perfetto la così va anche meglio così va anche meglio spero che mi sentite bene ditemi se mi se mi sentite bene ciao oscar ciao alessio ciao antonello ciao dalla sardegna bellissima la sardegna io ho fatto una parte della mia vita nell'esercito in sardegna sono stato a sassari ea macomer quando ero nella brigata sassari dai armando andrea bene 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 dai siete o bravi che siete venuti michele si si sente bene bene ma perché ho provato a mettere questo microfonino perché comunque ci possono essere i rumori in casa eccetera a proposito di isola amante dei coltelloni mi sono ricreduto tantissima roba sì devo dire che l'isola adesso l'ho usato come come cosa per cui non ce l'ho qua ne ho messi un po così di esempio così li vediamo insieme ciao ciao a tutti gli messi un po qua di esempio e l'isola adesso l'ho messo dietro quello che mi sono portato ne ho dire la verità ne ho 56 perché allora ho adesso utilizzato un isola 2 e io anche l'isola 1 l'isola 2 però è stato un passo successivo e hanno fatto un gran lavoro ciao dal trentino ciao lauro perché perché ha un'impugnatura un po più lungata un po più grande e quindi si riesce a lavorare meglio è leggermente più grande anche la lama se ben ricordo qualche millimetro più grande comunque ne parleremo poi nelle prossime dirette dove queste dirette vogliono essere un percorso insieme con voi dove cerchiamo di ricostruire un po non tanto la storia di coltelli un po quello che riguarda la nostra passione che tipi di acciaio che tipi di forme che tipi di manici che tipi di foderi che tipi di affilature cosa c'è poi coltelli ovviamente da sport coltelli da casa coltelli da cucina coltelli edici pinze multiuso vedremo tutta una serie di cose e quindi le vediamo insieme mancano ancora cinque minuti alle 18 vi ringrazio intanto perché siete già numerosi per me siete tanti 8 9 10 persone 11 sono sempre tante per cominciare perché la diretta non è mai stata una caratteristica di questa di questo mio canale però siccome le richieste sono state tante ed è bello anche poter vedere di potervi vedere qua tutti insieme no e con voi insomma per quello che ci permette comunque la ciatta dal vivo poter avere questa interazione vedrò di organizzarmi meglio anche per le prossime volte anche perché le dirette che ho sempre fatto con smart video fotografi con gennaro li ho sempre fatte attraverso streaming yard o altre applicazioni invece qua la sto facendo direttamente da youtube perché sapete che se non sapete ve lo dico io in questo settimana ci hanno convocati youtube hanno fatto questo credito a 360 dove ci hanno spiegato chi è dolly ci hanno spiegato appunto che era meglio fare le dirette hollywood sono le dirette direttamente dalla dall'applicazione youtube che questo aiuta l'algoritmo a spingere di più il canale allora adesso comunque cominciamo mancano tre minuti alle 18 se poi voi avete qualche domanda man mano che parleremo delle cose me la scrivete io cerco di rispondervi in in diretta e ovviamente poi vedremo anche nelle prossime dirette quale come affrontare gli argomenti possiamo cominciare anche piano piano mano che arrivano gli altri a parlare degli acciai gli acciai sono la prima cosa che uno dice quando coltello prendo il coltello compero o questo coltello allora perché è difficile spesso rispondervi è difficile spesso rispondervi questa è una delle domande che mi fate più spesso perché dipende bisognerebbe vedere anche la vostra manualità come vi trovate meglio ciao leonardo buonasera come vi trovate meglio con coltello grande con coltello piccolo che tipo di di attività ci fate generalmente quando si vanno nel bosco è un video devo avervelo già raccontato sapete che io ero istruttore militare nella brigata sassari in gioventù e li conobbi un heavy seals durante una esercitazione multiforza noi fumo inviati nella prima missione di pace in libano come supporto in quanto ufficialmente c'erano altri reparti mi andiamo solo come supporto in un momento di crisi e ecco con obbi appunto questo navy seals e siamo rimasti in contatto come poi altri avete visto che mi hanno regalato quelli della legione straniera il coltello della legione straniera che poi fare altre cose fatto dalla fox dall'italianissima fox e lui ad esempio vi faccio un esempio semplicissimo si di monios in effetti e penso che allora quando lo quando militavo io militavo non c'era ancora la canzone della brigata sassari fu fatta poi da un tenente colonnello che era appunto nel 45esimo anzi allora era capitano nel 45esimo battaglione fanteria arborea e che è appunto distanza a macomera e dicevamo sì ecco questo nevi se lui pensate che fa tutto ma esclusivamente tutto ciao alessandra tutto esclusivamente con un'isola 2 è una cosa è bravissimo c'è da dire che è bravissimo perché tante cose le fanno la testa e le mani dopo ovviamente lo strumento se uno strumento fatto bene di qualità aiuta tanto però la testa e le mani sono quelle che ci permettono di fare qualsiasi cosa in natura lui adesso è andato in congedo ha fatto ha fatto parte dei famosi team che vengono chiamati adesso team six cioè proprio quelli di pronto intervento e lui ama fare tutto con un coltello corto e adesso diciamo così negli ultimi due tre anni da che ci teniamo in contatto ci scriviamo ogni tanto eccetera utilizza un'isola 2 neanche lisi 3 perché preferisce l'isola 2 per una serie di motivi che mi ha anche spiegato e lui ci fa di tutto ovviamente c'è una piccola cettina che è poco più grande di un tomahawk e nei casi dove proprio gli serve utilizza una sega a filo d'acciaio quella sapete con gli anelli utilizza quello quindi questo è per dire che lui in base al suo voler andare con uno zaino leggero con cosa lui sta fuori anche due tre giorni solamente con isola dove c'è invece chi preferisce il coltellone da 14 15 17 cm col quale di sboscare tagliare costruirsi uno shelter cioè un rifugio eccetera eccetera quindi come vedete quando noi quelli che hanno un po di esperienza anche nei vari gruppi anche su facebook eccetera io ho iniziato grazie consigli di armano grazie leonardo ciao ciao smart video fotografi buona serata anche a te e questo è gennaro di smart video fotografi potete andare a credere il suo canale ogni tanto si fa piacere sapere di più fotografia edit in video tutto da mobile lui fa tutto da mobile pensate che sta girando un cortometraggio esclusivamente con degli smartphone per cui è un bravo ragazzo come si dice qua però attenti che un taccagno genovese comunque dicevamo quindi alle volte ci serve sapere anche come vi trovate bene quali sono le vostre manualità quali sono le caratteristiche con le quali vi piace più lavorare con un coltello al ciao alessio anche lui anche tu genovese bene così poi puoi andare a trovare gennarino siamo già in 18 vi ringrazio veramente siete siete carini di essere qua questo pomeriggio quindi c'è quello e poi c'è anche da sapere il budget perché come sapete i coltelli costicchiano soprattutto quelli di una certa qualità voi sapete che ho già fatto un video un po polemico dove dicevo vabbè c'è quello che dice ma io poi ho preso quello la bancarella da 20 euro lo uso da tre anni e taglia anche qua va tutto bene io dico sempre guardate che i nostri butteri i nostri butteri e mi ricordo i pastori in sardegna c'è gente che vive nella natura 24 ore su 24 di quale provincia sei ermanno sono della provincia di verona sono sul lago di garda per la precisione e hanno sempre usato dei serramanico cioè dei folder come li chiamiamo oggi all'americana hanno sempre usato in natura dei serramanico e di serramanico sebbene di qualità ma diciamo così di acciai al massimo arrivovamo ai 440 c chiamiamolo così anche i 420 quindi non acciai superlativi e precedentemente si utilizzavano utilizzavano acciai carboniosi di fatti avevano queste lame abbronzate chiamano queste lame opacizzate e hanno sempre fatto tutto in natura chi vive più la natura di loro perché noi ormai almeno io che sono un vecchio babbione andiamo in natura un weekend stiamo via una notte due notti facciamo il giro in montagna però quella è gente come il pastore o come il buttero che vive in natura la sua vita cioè lui si guadagna da vivere vivendo in natura quindi questi sono i mezzi io ho sempre visto usare quello e delle piccole accette o dei segaci per cui come vedete si può andare in natura con delle cose basiche però il coltello che abbia un minimo di qualità perché si rischia di farsi del male nell'utilizzo e soprattutto visto che con poche decine di euro si può avere già un coltello di qualità senza buttarsi voglio dire nel spendere le centinaia di euro e lì sono d'accordo con voi ma non è per snobismo è diciamolo adesso per esempio questo è il malli il pic della malli costa sulle 40 45 euro a una lama in d2 a un beck lock ed è un un sior chiudibile con il quale potete fare dai lavoretti dai dc fino anche in tagliare il legno per costruire una trappola per costruire una punta per farvi una fiocina ovviamente non potete di sboscare una foresta però già con questo in natura potete vivere tranquillamente questo è per dire che non c'è bisogno di avere cosa però dopo c'è ciao filippo ciao crono fighter ciao a tutti grazie di essere qua questo qua è in malli la ditta è il malli questo è il pic questo è per dire e ed è sicuramente di qualità superiore a quelli che erano i chiudibili che gli anni 70 80 utilizzavano i sia i pastori che recita proverbio che più spende meno spende la qualità paga sempre alessio sì è vero è sicuramente di qualità di robustezza maggiore di un regionale che al solo manico di legno per capirsi e quindi già loro hanno sempre fatto tutto quindi è vero si può fare con coltelli diciamo così non estremamente carino estremamente costosi però ricordatevi che la qualità vi paga sia per il filo soprattutto anche per la sicurezza di utilizzo e poi vi dura una vita lo potete passare di generazione in generazione una cosa che non è non è male e quindi abbiamo visto questo quindi prima di comprare un coltello c'è da farsi questa domanda come lo utilizzo di solito cosa ne faccio al di là dopo dei gusti del piacere della collezione ecco io non sono un collezionista che ha coltelli da collezione io coltelli da utilizzo perché a me piace utilizzare li utilizzo un po tutti ciao ciao a tutti gli ultimi arrivati siamo arrivati a 22 grazie a tutti esser qua e quindi la prima domanda è quella la seconda domanda è anche la seconda risposta è anche deve piacermi ovviamente adesso un coltello che mi appaga anche esteticamente attenzione però che a volte i coltelli che ci appagano esteticamente non sono altrettanto paganti dal punto di vista funzionale state sempre per quello che riguarda la mia esperienza possiamo dire quarantennale fasi inizio essere veramente vecchio perché era quando 14 anni che ho coltellini in tasca i primi il primo l'ho avuto dici anni e mezzo me lo regalò mia nonna che abitava appunto zurigo ed era un coltellino svizzero e i coltelli che a volte ci appagano di più dal punto di vista visivo dal punto di vista anche tattico no che a volte ci deludono poi dal punto di vista funzionale quindi cercate se è la vostra prima esperienza se sono i vostri primi coltelli se di stare su forme abbastanza tradizionali del coltello che possono essere una forma così magari anche un po più grande questo qua è un group di tonnoli questo è insomma i vigi 10 una forma così che è una forma per esempio che funziona sempre che taglia sempre è un full flat quindi si affida facilmente si gestisce facilmente ovviamente anche se la dimensione può essere più grande per esempio questo è tala war e vedete che la forma è sempre una forma tradizionale sebbene un po mezza luna però sono queste forme funzionano sempre non deludono mai dal punto di vista del taglio che non siano troppo spessi ci sono case come la tops che io amo per alcuni coltelli che fanno ma per esempio spesso cercano di fare dei coltelli troppo spessi e se anche poi ovviamente la lama va a finire gli fanno al micro bisello tutto quello che volete sono delle vere proprie putrelle di acciaio e quando c'è bisogno poi di un taglio fanno fatica quindi non esagerate con lo spessore a meno che coltello non siano 15 16 cm di lama e lo usate da spacco allora li alzo le mani alzo le mani anche perché è un genere di coltelli che per esempio io non amo molto perché se devo andare a fare dello spacco mi porto dietro una centina cettina se ne sono dai 350 grammi in su e vado con quella oppure mi creo dei cunei e vado con quelli ecco anche non fatemi ingannare e qua c'è sempre un po no la polemica spesso non fatemi ingannare da noi youtuber che facciamo il batoni e batoni in realtà non è neanche indicativo della resistenza di un coltello perché dipende da come è fatto dovremmo entrare un discorso molto tecnico in questo caso in questo momento non è il caso ne parleremo comunque andando avanti chi vorrà seguirmi che avrà piacere di seguirmi ne parleremo comunque entreremo anche in alcuni argomenti tecnici oggi vuole essere così un un escursus con voi per vedere un attimino capire cercare di comprendere anche quando ponete una domanda ha anche nei forum nei gruppi di facebook eccetera cercate di porla dando degli elementi in maniera che chi ne sa qualcosa in più e non sono certo io nel senso io ne so però c'è sempre qualcuno che ne sa di più che può darvi qualche indicazione maggiore se ha dei dati e anche per darvi una risposta a voi siete una bella coltelleria entrate in questa coltelleria e vedete tutto questo oro che luzica quale comprare allora la prima cosa ovviamente essenziale è il budget o 100 euro 50 euro 200 euro dove posso arrivare a spendere poi che tipo di coltello ma soprattutto che tipo di acciaio allora anche qua io consiglio a chi ha la possibilità nel tempo non si dice domani mattina ecco perché si tende a consigliare anche qualche coltello che costa perché eventualmente risparmiate 10 euro oggi 10 euro domani una pizza in meno sta settimana e il coltello da 100 euro diventa abbordabile di provare nella vostra vita se potete prendere più di un coltello sia le lame carboniose sia le lame inox vantaggi e svantaggi di entrambi attenzione quando parliamo di lame carboniose ne abbiamo una serie infinita k7 20 d2 eccetera eccetera però non sono acciai che io amo molto sono acciai che hanno delle grandi performance il d2 eccolo qua per esempio in questo a ricca è un acciaio veramente da da strumenti e strumenti agricoli da attrezzatura in questo caso poi temprato criogenicamente quindi a una veramente una durezza favolosa mantiene anche però l'elasticità è però per affilarlo ci vuole un pochino è un po dura da affilare io quando vi parlo di acciai carboniosi da provare tanto per iniziare vi parlo soprattutto del 10 95 e 10 95 voi sapete che è l'acciaio chiamiamolo carbonioso poi quando lo chiamiamo carbonioso è un termine improprio perché tutti gli acciai hanno carbonio se non sarebbero acciai diciamo basso legati allora tutti gli acciai basso legati il 10 95 è più utilizzato nella storia pensate che i famosi bar con gli mk2 mk3 utilizzati durante la seconda guerra mondiale sono tutti fatti in acciaio 10 95 i camillus per capirsi sono tutti fatti in 10 95 anzi io direi che il camillus sul cabar che dir si voglia sarebbe il primo coltello che un neofita dovrebbe comprare perché perché è un coltello non perché ha origini militari ma in questo caso poi eventualmente comprare un esi 3 un isola 2 abbiamo detto oppure anche questo jg 3 ecco non fatevi ingannare dalla lama scura perché io questo ovviamente l'avevo passivato passivato lama e tutto il codolo vedete con la coca cola a caldo l'ho passivato tutto quindi tende e non tende più ad arrugginire e perché perché il 10 95 è un acciaio che dà grandi soddisfazioni a un elasticità che impedisce di rompersi quasi sempre cioè al limite vi storge un po la lama due colpi si raddrizza ciò nonostante mantiene bene il filo attenzione che la tops lo tempra un attimino più alto la easy lo tempra più morbido 10 95 l'ho lanciato jeff wilde in usa e ha avuto successo nel bushcraft americano poi tutti hanno seguito i suoi coltelli è vero vero bellissimo grazie andrea e e tiene discretamente bene il filo nel senso che non lo dovete e lo tirate con una pietra qualsiasi con una pietra piatta di lago di fiume lo tirate a rasoio è un acciaio che si fa affilare con una facilità che sembra che tu quando la felici no ma questo il filo poi non lo tiene invece lo tiene bene quindi il 10 se volete provare un acciaio che vi dà soddisfazioni e lo dico da uno che ne ha tanti di tutti i tipi adesso anche tutti questi acciai moderni sinterizzati tutti tutto molto bello però se volete provare la patadese per tutto bravo anello sia patadese un gran coltello se avete occasione di prendervene una come dc da tenere in tasca ci fate quello che volete se è fatta bene ovviamente e se è fatta bene costa un franco è perché si inizia a parlare di 160 180 euro da artigiani discreti e allora vi dicevo 10 95 vi dà grandi soddisfazioni soprattutto se di questi due marchi attenzione della easy e e della tops buonasera a tutti c'era mano sapete consigliare un piccolo lama fissa buono per qualità e prezzo sì certo che te lo so consigliare ne stavamo parlando appunto un isola 2 potrebbe essere un buon piccolo lama fissa e se no non questo perché è più caretto però il rook di tonnoli quello base costa sui 120 euro ed è un piccolo lama fissa abbiamo circa otto centimetri e mezzo di tagliente un nove centimetri circa di lama e veramente è un coltellino si chiama rook appunto real utility knife tradotto che va molto molto bene ovviamente ce ne sono molti altri per esempio c'è il b35 della lion steel eccolo qua e questo è in sleipner sleipner è un altro acciaio che dà grandi soddisfazioni da lavoro e anche questo non è molto grande però è già più duretto del 10 95 da filare e da trattare quindi se volete provare proprio i coltelli che utilizzavano i soldati scusate sempre i soldati usa quelli che hanno fatto la storia chiamavano in 10 95 un camillus un ontario ma se volete spendere poco e se no vi prendete anche un easy on tops per esempio anche questo è un altro coltello non tanto grande lo scendi tracker della tops e vedrete che veramente li affilate con niente e spesso basta un colpo di strop per ridare il filo e hanno comunque prezzi diciamo questo mi sembra che adesso lo trovate sui 130 140 euro e ovviamente quando parliamo di prezzo basso parliamo sempre circa dei 100 euro in su purtroppo quando parliamo di questi coltelli perché ovviamente un po al marchio che si fa pagare sono coltelli comunque industriali e non è detto che coltello artigianale sia meglio di quello industriale il berus sì o anche il berus però il berus è più piccolino attenzione che il berus ne parleremo quando poi parleremo appunto delle tipologie delle forme allora vi farò vedere molti più coltelli di quelli che mi sono messo qua stasera per fare un po' un'infarinatura così per parlare un po' in generale e anche seguendo le vostre i vostri commenti le vostre domande per poi la prossima volta a cominciare a sezioni parlare appunto di tutta la coltelleria il berus però è più piccolino va benissimo come dici e come sostituto quindi come di sì e come sostituto quindi anche di un folder però non può andare più in là mentre già con isola 2 già con gg3 beh questo ovviamente è un pochino più lungo c'è 9 cm di lama si può fare veramente di tutto o abbiamo detto anche con corruc eccetera con questi coltelli poi già andare in natura fare di tutto tranne spacco della legna ma in quel caso appunto abbiamo detto ti porti dietro una cettina o ti costruisci 22 cunei se proprio devi fare del batoni in genere non c'è non ne trovo il bisogno soprattutto in italia dove nei boschi è facile incorrere anche in qualche contravvenzione sia che si accenda al fuoco sia che si rompa la linea poi discutiamo ne si può far tutti fanno tutto eccetera siamo arrivati a 31 mamma mia bravi grazie vi ringrazio di essere qua allora abbiamo parlato di ecco 10 95 a mio parere è un acciaio che tutti dovrebbero provare parlo di queste due case perché sono quelle che conosco che a mio parere oltre che conoscere diciamo così che conosco di più perché ho preso più modelli e dove questo tipo di acciaio è lavorato bene per esempio ho anche uno strade strade l'acciaio inossibilabile migliore più facile da affilare i vg 10 che è un po più facile del n vg 10 il 440 c facile da affilare per cui sono acciaio abbastanza facili da affilare e come inox stavo dicendo sì è l'acciaio per esempio lo strade ma non è lavorato così bene come dalle due ditte che loro lavorano tradizionalmente il 10 95 adesso lesi si è messa a fare le s 35 vn ma devo essere sincero non sta dando hanno già migliorato la g4 20 inox facile da affilare io lo trovo facile affilare ovviamente ci sono acciai per esempio anche questo è in sleipner che è ovviamente più difficile da affilare il più facile affilare che io ho trovato in questi anni questi ultimi anni è il 10 95 cosa pensi cinque pensi dei coltelli russi kitzler sono fanno fanno allora fanno delle lame che fanno dei buoni prodotti e ovviamente stanno cercando di entrare in un mercato sovraffollato dove anche noi stiamo cercando di entrare e alcune ditte come avete visto come sapete bene la lion steel piuttosto che la fox sono riusciti entrare in questo mercato americano che è il mercato ovviamente di gran lunga più dove si può guadagnare di più comunque perché c'è vuole sempre per gli accii ci vuole sempre olio di gomito sì ci sono alcuni accii ripeto 10 95 o anche per esempio il vigi 10 ma in questo al f1 4 colpi e li affili dopo dipende dalle pietre dipende da tante cose però diciamo che io ho filo a mano e io ho filo a mano come viene viene nel senso ho imparato negli anni e poi ho sempre affilato a mano quindi non uso filatori guidati non uso filatori elettrici anche perché mi sono abituato sul campo e sul campo tu hai dietro la pietra piccolo grande che sia tu hai dietro la pietra di solito consiglio posso consigliare una dc4 della falc niven che è quella più comoda anche il suo piccolo stuccino in cuoio della porti dietro e con poco ma ne parleremo quando faremo la diretta sulla filatura ne parleremo con dovizia di particolare io trovo questi due acciai 10 95 e vg 10 i più semplici da affilare di quelli tra le marche ovviamente diciamo così questi due acciai sono i più basici e semplici da filare proprio gli affili con niente il 10 95 è il migliore come facilità di affilatura per quello che mi riguarda il vg 10 lo stessa ma in particolare abbastanza facile in altri modelli dove trattato un po diversamente è un pochino più duro ma sicuramente va abbastanza bene anche perché ricordo vi ricordo che comunque sono sempre circa di qua 440 c con delle aggiunte come l'acciaio mova e come l'enne 6 90 e come tutta una serie di acciai che girano intorno sono poi dei 440 c che hanno delle aggiunte di altre leghe di altri metalli per renderli cercarli renderli un po più performanti e quindi che acciaio compro no allora io partirei con questi due acciai basici ma per esempio mi trovo ho trovato molto molto bene a filare e sebbene costruito in cina i coltelli basici quelli della black fox per capirsi che sono in 440 c 440 c lavorato bene perché la fox controlla la produzione di qualità sebbene è il loro prodotto economico tipo il vesuvius punto della fox o il viator ancora meglio il viator che è meno grande del vesuvius quindi se volete un coltellino per iniziare gli spendete circa sui 60 euro 50 euro 60 euro è un 440 c che si affila veramente bene e devo dire che dice la sua anche come tenuta del filo ovviamente non aspettiamoci le cose mirabolanti non possiamo aspettarci la tenuta del filo si appunto il bowler n 6 90 che quello poi utilizzato per la maggiore dalla fox e della diciamolo piano estrema razio e anche quello è un 440 c con delle aggiunte però inizia inizia essa no non è difficile da filare però è già più difficile da filare del vg 10 si anche fratello diciamo così fratello maggiore cugino comunque siamo sempre in quella senza entrare appunto nella tecnica siamo sempre in quella famiglia di acciai e ovviamente questo è un acciaio più performante è un acciaio da da polveri da sintetizzazione questo è il max ecco per esempio sia inizialmente sia per chi inizia sia per chi utilizza non ha tanti coltelli né a 1 2 3 4 e li utilizza spesso ecco un acciaio che non consiglierei perché la fight niven se lo fa fare in giappone dove si faceva fare il vg 10 ed è lavorato molto bene ne ho trovati altri è il max lavorati male però è un acciaio che molto più duro da filare tiene benissimo il filo però ripeto ci vuole più per più capacità e anche più olio di gomito per cui se dovete comprare un coltello per iniziare comprate un coltello con acciaio tra virgolette più povero vi darà più soddisfazioni imparerete e non avrete paura di rovinarlo perché costerà anche qualcosina meno e soprattutto farete esperienza perché quello che conta potete avere un acciaio che una tenuta del fine del filo spaziale poi magari siete una settimana in montagna al terzo giorno perché avete tirato giù un bosco di sequoie non vi tiene più il filo e doverlo riaffilare vi viene la lacrima mentre un altro coltello che vi perde il filo dopo la prima giornata una prima giornata e mezzo e con qualche passata su una pietra da campo voi lo ripristinate e io sono più per questa seconda opzione preferisco un acciaio un po meno performante ma che io posso riaffilare con più praticità e con più facilità in estrema razza tratta n 6 90 molto bene a livello di tempra sì sì io non sto dicendo non sto facendo critiche a nessuno stiamo parlando in termini generali parlavamo solo che 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 ditte utilizzano prevalentemente la n 6 90 la fox e l'estrema razza per esempio lo usano con grande risultato sono modelli venduti tutto il mondo non è un acciaio di mia preferenza ne ho ne ho li uso anche con soddisfazione però se potessi perché perché mi piacevano i modelli che erano fatti con quell'acciaio lì allora filippo lo scandi è davvero il miglior bisello da bushcraft il bisello facile da filare into the wild no lo scandi e lo scandi o scandi come dir si voglia è un bisello difficile da filare se uno scandi puro perché va messo va messo sulla pietra per tutta la lunghezza quindi voi non affilate solo la parte bisellata perché non ha un bisello voi affilati cioè filato il bisello allora scusatemi non affilate il filo quello che in inglese viene chiamato micro b level o il micro bisello tradotto in italiano ma non sarebbe corretto allora per capirsi vediamo per capirsi il bisello è la faccia del coltello il filo è la parte tagliente che viene affilata micro b level lo chiamano le volte loro esatto allo silmania cat lo conosco è un ottimo pare che sia ho visto anche qualche prova di qualcuno che mi figlio pare che sia un ottimo coltello un ottimo acciaio ma è molto duro e stavamo dicendo sì e devi quindi appoggiare adesso non ho scendi non ho preparato uno scendi qua tra quelli che io non mi parla bene aspetta ho questo qua della tops che però la tops ecco fa lo scendi non è pura perché è un micro bisello qua a livello del filo comunque lo scendi tu devi appoggiare tutta la superficie scendi c'è da qua al finire del filo sulla pietra e lo passi sulla pietra cosa che lo scendi puro non va bene per esempio per fare batoni perché tu pieghi il filo subito tanto che la easy al suo coltellino scendi puro e c'è scritto esattamente nella confezione che se lo usi per far batoni non rispondono la garanzia non risponde anzi ti vietano di utilizzare ti vietano utilizzarlo per far batoni però lo scendi puro ovviamente è un coltello millenario coltello nordico dove le popolazioni nordiche ci vivono ci hanno vissuto per secoli e quindi se anche tanti non lo amano perché non sono coltelloni molto grossi dopo ci sono altri coltelli grossi sempre nordici derivazione ma diciamo che lo il il pucco è un coltello di solito non tanto grande e microbi versi lo chiamano in tante maniere diverse però in italiano non c'è una vera propria e scusate perché qua scappano i commenti stavano dicendo sì per me è uno dei coltelli scendi sono dei coltelli che possono non piacere dal punto di vista estetico ma sono i coltelli estremamente validi sono fatti anche in questa maniera col manico grosso perché voi tenete presente che intanto di solito andavano tenuti solo appesi al collo perché immaginatevi mezzo al geno so un lappone in mezzo alla neve al gelo con i guantoni grossi e col giacone di renna e quindi c'è il coltello fuori e lo estrae tirandolo così lo estrae e l'utilizza con i guanti sono rischia di perdere le dita col freddo e quindi hanno anche il manico grosso anche per quel motivo lì oltre che come leva aiuta a fare più forte perché ricordatevi che loro lo utilizzano non solo come strumento da taglio ma proprio come un vero proprio trezzo aggiustare la slitta fare fare determinate cose filippo moto quindi e secondo la tua esperienza qual è il miglior bisello per la filatura è un bisello normale un full flat un coltello full flat normale lo affili veramente facile a fili facile anche questi della tops perché anche lo scendi a questo bisello vedete a questo bisello qua e quindi non è uno scendi puro e lo fanno così apposta perché non sia un bisello che si schiaccia è un'invenzione che ha avuto un'idea che ha avuto la tops e devo dire che l'ha premiato parliamo per esempio del tops bob field crat che è un coltellone che ha avuto un successo enorme e quindi è una meraviglia quindi dopo accii ripetiamo ce ne sono tantissimi ce ne sono tantissimi abbiamo detto lo slave nel d2 ls 35 vn che adesso è molto utilizzato poi ci sono anche acciai sperimentali per esempio questo è un cts 240p vediamo se riesco a farlo vedere il disegnatore è indire il coltello è un zero tolerance e anche questo è un acciaio molto duro molto duro di fatti talmente duro che non so se notate se riesco a farvelo notare ho dovuto riprendere perché addirittura l'ho fatto una piccola cippatura gli ho fatto una piccola cippatura perché nel tagliare nel tagliare ma proprio nel tagliare così diciamo che sono andato oltre il legno e ho appena toccato la pietra e si è subito cippato perché molto molto duro ed affilare non è così comodo dopodiché è un folder di tutto rispetto oltre al costo ma è un folder top stop faccio di tutto con uno stile eagle delta classe indistruttibile sì sì ma modelli poi ce ne sono veramente di coltelli ce ne sono tantissimi meraviglioso siamo arrivati a 30 vi ringrazio sempre allora abbiamo detto acciai cerchiamo di stare in acciai non troppo elevati anche come hrc perché più elevati il becca il becca stavamo parlando prima becutta o beccata adesso non so come come si si pronunci correttamente e buonasera mano cosa ne pensi al neolox ne ho un paio di coltelli non ne pensano e bene né male senza gloria senza infamia è un acciaio discretamente buono ma che non non mi ha dato particolari emozioni ecco forse dipende dai modelli coltelli che ho preso il neolox non lo so però nel senso lo trovo un buon acciaio però non mi ingrifa ecco perché dopo ognuno di noi ha le proprie passioni alle proprie come ti dicevo mi ingrifa di più un vecchio coltello in 10 95 che un coltello neolox perché ti dà il senso dell'utilizzo del coltello mi piace molto mi piace molto come acciaio molto usato dalla lion steel e devo ne avevamo fatto una discussione con moletta e devo dire che col tempo gli ho dato ragione mi piace molto l'acciaio che loro usano che lo sleipene come acciaio da lavoro dicono che è duro da filare io non lo trovo così duro lo trovo appena appena un po più duro della degli acciai inox vg 10 chiamiamoli così eccetera meno duro del neolox da filare e meno duro del d2 e tiene bene molto bene il filo non è un inox ma si ossida con difficoltà diciamo non si ossida molto facilmente però preferisco sempre ripeto se di tutti i coltelli che ho domani ne puoi tenere uno solo io starei su due acciai molto basici 10 95 figi 10 440 c c'è starai su questi acciai qua perché in mania cutter mania cut si bravissimo alessio non o come come avete visto in uno dei miei video ho fatto un coltello ho comprato la lama quella del grandfather in uh a no visto cancellato messaggio ht la colacciaio super duro che va se fino a 64 hrc e la lama mi piace mi piace anche coltellino come venuto se anche un coltellino strano eccetera e però così duro alla fine quando tu lo utilizzi sei nel bosco lo utilizzi lo utilizzi ci va voglio ripristinare un po il filo è non è mai comodo non è mai pratico e vanno bene secondo me questi acciai sinterizzati questi acciai che possiamo tirare molto duri siano essi carboniosi inox non mi interessa vanno bene di cpm 20 tv che poi sono più o meno identici sì m3 90 sì però sono acciai che tu poi o li affidi a casa quando c'è il tempo quando c'è voglia se lo fai a mano o comunque devi avere la macchinetta elettrica e quindi vabbè ci sta ma quando tu sei nel bosco in campagna ma se è andato in montagna e mangi se sei fuori a fare una barbecue con gli amici ti viene non ci sono posate abbastanza tu c'hai col tuo coltello dietro ti accorgi che non è che non taglia bene la carne perché non è affilato e ovviamente sto facendo un'ipotesi assurda se hai un acciaio di questi chiamiamoli via tra virgolette poveri ma di discreta buona tenuta con poco lo riaffili lì al volo e ti fa un lavoro soddisfacente sai un acciaio altamente performante che ha bisogno di una filatura decisa non lo puoi fare se sei bravissimo ti metti lì c'hai venti minuti di tempo finché ti cuociono la carne te lo fili però capite che diventa più problematico quindi io consiglio che posso dare a tutti quelli che me lo chiedono è quello di cominciare dopo ci sta a provare ripeto io veramente ho provato tantissimi acciai sto provando ne provo continuamente per altre cose la collezione che ho è solo roba mia non mi è stato donato niente e li ho sempre comperati e quindi compro anche cose che mi piacciono valo spendere di soldi cerco di selezionarle eccetera mi piace provare anche i vari acciai però per dirvi qua abbiamo sapete che ho fatto la recensione da poco il nostro il nostro in cpms 30 v spider co paramilitari due però inizia a essere anche questo un chiudibile che da filare ci vuole un pochino di manina tommaso trani buonasera le manno non credi che oggi sia un po un'esagerazione nel ricercare super acciaio avuto lavorato con acciaio 440 c ma allora diciamo che non è un'esagerazione perché la tecnologia va avanti come le mountain bike e quelle in super fibra di qua e di là che pesano 10 grammi e costano 20 mila euro ok cioè voglio dire ci sta chi può permettersi che vuole provare nuove 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 tecnologie però sostanzialmente non servono per un utilizzo quotidiano anche approfondito anzi alle volte sono talmente nuovi hanno talmente bisogno di essere capiti rodati anche delle aziende stesse che li producono che è più quasi più controproducente comprare un acciaio di ultima generazione che non fa un acciaio già testato sul mercato da qualche anno o da più anni ci sono vari fallimenti anche di ditte importanti storiche di modelli di coltelli fatti con acciai appena usciti la stessa spider co ha fatto delle cappellate enormi con con la tempra di alcuni modelli e poi ritirati nel mercato poi rimessi in vendita con altri acciai eccetera come dicevo lo sleipner per esempio un buon acciaio c'è anche nei chiudibili eccolo qua è un buon acciaio da lavoro è un pochino piuttosto da filare dei due che dicevamo prima basi ci prendiamo come base 10 95 vg 10 o 4 45 lo che volete però un acciaio molto performante tiene molto molto bene il filo e mantiene quel po di elasticità e potremmo chiamarlo un di due modificato alcuni lo chiamano così mentre altri acciai che abbiamo detto più performanti le s30 per esempio questo qua è un s35 vn sicuramente è un acciaio più performante del vg 10 del 10 95 eccetera però è anche piuttosto da filare tra mora garberger un benchmade bushcrafter è un top bob in cento 54 cm cosa mi consiglieresti mostra la olivetto è fallita è venduta alla sanelli speriamo che la rilanci mi piacevano i coltelli io ho un paio di coltelli della olivetto e sono sono veramente buoni ma di una trentina di anni fa penso li vedremo farò una recensione anche di quelli tra mora garberger un benchmade bushcrafter è un top bob in cento e cinquanta cm cosa mi consiglierei ecco sono coltelli abbastanza diversi e reagiscono abbastanza in maniera diversa anche nell'utilizzo direi che se prendi il bob caschi in piedi qualsiasi sia la tua manualità però se vuoi invece un manico più comodo è un coltello un po più contenuto nel peso il garberg te lo consiglierei a a occhi chiusi sia quello inox che quello carbonioso il bench made è super valutato per per quello che dà come performance ecco quindi poi e ha un manico non così comodo è il bench made di fatti molti se vai a vedere nei forum se vedere chi la utilizza io io l'ho provato un po di volte non non ha un manico così comodo un manico che dà fastidio di o se ti metti i guanti non c'è problema con nessun manico tra questi tre il manico più comodo c'è l'algar berg adesso traverso ordinato sulla mia pm2 in s45 vn per taglio puro io comunque vivo filatura come un relax un momento per rilassarmi mi prendo mio tempo sì 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 è bello della filatura a mano è quella di tutti metti io avevo giardino magari con la bella stagione mi metto in giardino e vi passo le mie la mia la mia ora di relax questo siamo d'accordo però sì si parlava stiamo parlando in termini generici per cui se tu sei sul campo ce l'hai sempre dietro è bisogno di dare una filata veloce perché ti sei dimenticato di riaffilarlo è molto che ce l'hai dietro eccetera ovviamente un acciaio meno meno duro ma comunque discretamente performante è meglio di un acciaio più duro che può essere super performante ma dopo per affilarlo nel bosco nel campo devo passarci la giornata la guancetta che si muove per l'esattezza m 21 14 ecco per cui questo senza dubbio come acciaio andando invece poi parlare dei manici i manici noi spesso li sottovalutiamo perché ci facciamo prendere dalle forme est come abbiamo detto prima anche per le lame ma anche per i manici le forme magari il tipo di materiale l'estetica invece dovremmo tenerli più in considerazione e devo dire che non molte aziende fanno dei manici pratici e comodi quanto le lame magari fanno delle belle lame ma i manici lasciano a desiderare il manico soprattutto se fate un utilizzo intensivo nel bosco è molto importante perché se no visciche subito poi da fastidio fa male non si riesce a far forza perché vi fa male qua per esempio prendiamo adesso per quelli che ho qua mi sono preparato qualche coltello così giusto per avere un confronto paragone wonder tactical bellissimo folder resistente qua c'è al pignoncino da mettere qua per cui diventa a tutti gli effetti un fisso io ci ho fatto batonini ci ho fatto quello che vuoi ne ho tre per cui vi farò vedere quello che il primo addirittura che è uscito che è pesante veramente pesante manico del cavolo intanto non prendete manici in metallo di nessun genere mi raccomando questo qua è in alluminio io ne ho ne ho in alluminio ne ho in titanio sono manici per quanto gli facciano rigature cose se la mano sudata la mano bagnata in grip praticamente non esiste e in questo caso il manico vedete fatto così con questa gimpatura e così sottile quando tu lavori così che forzi sul legno ecco che qua guardate già i segni vedete che c'è un segno qua è un segno qua è un manico scomodissimo va bene per l'intaglio veloce va bene perché se o fare spaccare un ceppo di legno ma se devo utilizzarlo parecchio o c'ho i guanti o mi spacco la mano bocciato da quel punto di vista di buoni manici dal punto di vista ergonomico ergonomico li fa per esempio la park niven li fa di fa sicuramente se anche sono orrendi spesso esteticamente e la mora knive i mora quindi hanno veramente dei manici spesso molto comodi park niven vedete che questo questo materiale che non è duro al tatto è un po gommoso però stesso tempo è molto rigido è molto comodo voi potete lavorarci un'ora tranquillamente senza stancarvi la mano e senza farvi male alla mano dopo i suoi difetti per esempio un manico così col caldo può tentare fissura in climi troppo caldi tende a fissurare in questa posizione e quindi a far arrugginire all'interno va bene che dopo perché si rovini coltello ci vogliono degli anni però è una seccatura tanto che nei nuovi modelli i nuovi modelli adesso non so se qua riesco a farvi vedere vedrete un segnetto come ce l'hanno fatto una parte più dura qua interna una parte più morbida qua esterna più gommosa in maniera che questa parte qua in climi più caldi non ceda come la precedente staremo a vedere nel tempo se ci sarà questa cosa mi piace il manico in bambù lo metterei sul mio coltello a quello che ho fatto alla f1 vecchio che avevo rotto sì e ce l'ho di là e poi vedremo anche i manici in particolare per esempio un manico che a me piaceva molto dal punto di vista tattico è questo di pix gear vedete che però poi io li ho tirato via la qua era un po più lungo e a punta che servirebbe per aprire i barattoli per perché questo quando ce l'hai in cintura vedete io avevo tirato via dal suo dal suo lo metto in cintura così questo qua ti si infila nella ciccia e non è molto comodo e anche quando lo usavi questo era di intraccio quindi per me la punta qua non buona lo vedete da un po rotondata adesso eventualmente se mi servisse la posso anche sfinire per fare quel lavoro per cui era nato ma è un lavoro di cui non ha bisogno perché se proprio uso la lama se anche per del filo poi l'aria filo molto interessante invece il discorso apri bottiglie e riduttore per le per utilizzare le punte dei cacciaviti o delle chiavi qua è molto simpatico questo è nato come un coltello tattico multifunzione da dare in dotazione alcuni reparti militari e soprattutto dati dall'esperienza del suo costruttore nella che lui sapete addestrava reparti addestrava gente alla sopravvivenza e come progetto a me è piaciuto non mi piace questo questa cosa qua e il manico non è scomodo è però è troppo piccolo cioè se io devo se io devo utilizzarlo a lungo viene male al polso e viene male qua ci voleva un attimino più pienotto perché comunque è coltello fisso va bene vuol dire tra coltello tattico però coltello deve essere anche funzionale che fa il kniven mi consigli guarda vuoi stare sul classico ti prendi un f1 e ci fai quello che vuoi se ti piace più grosso ovviamente vai sull s1 e un altro manico che invece nasce per esempio io questo lo pensavo scomodo invece il suo creatore gibson lui gira col prototipo poiché fa è uguale al manico leggermente diverso adesso mi hanno fatto anche uno in produzione col manico uguale al suo però mi piace molto questo tipo di micarta qua fa molta presa anche se si sporca più facilmente di altre micarta questo io pensavo un manico molto scomodo anche perché ho vedete la mano abbastanza grossa invece stranamente si impugna bene e si lavora bene oddio senza guanti bisogna avere sempre la mano un pochino perché comunque non è molto largo e quindi comunque tenderà a fare pressione qua sulla mano quando noi lavoriamo e quindi dovete avere un po la mano allenata se fate parecchio lavoro e vediamo a o manico fatto con molta con molta intelligenza di questo chiudibile del talwar della colstil allora perché parlate allora diciamoci così che lin che poi è stato proprietario fino all'anno scorso fino a quest'anno in cui l'hanno venduta la costi sapete che è stata venduta e difatti adesso visto che alcuni pezzi li hanno hanno aumentati alcune cose stanno andando fuori produzione per cui se c'è qualche modello che vi piace questo invece l'hanno rifatto che era fuori produzione questo mi ha fatto molto piacere hanno rifatto questo e l'old out peccato che non abbiano fatto il 2 hanno fatto l'old out uno diciamo quello lungo che ne ho preso un altro ne aveva uno vecchio modello e preso un altro e hanno fatto l'old out 3 se facessero il 2 sarebbe l'ottimo però perché a me piace allora perché ho manico fatto bene per esempio questo oltre a essere un vg 10 che ha e scusate in oltre a essere un g10 che è molto molto grippante quando i coltelli possiedi dove li compri dove li vendi no non li vendo io ricompro solo varie coltellerie online anche qualcuna fisica qualcuno l'ho preso anche su amazon sono sincero quando ho trovato delle delle offerte di fatto in una vetrina sotto il mio canale la metto ogni tanto dove potete trovare qualche pezzo non sono sempre disponibili su amazon però le volte si trovano quasi a un terzo a volte anche del prezzo inferiore quello che si trova sulle coltellerie comunque vedete è molto ben congeniale perché così io lavoro diciamo posizione avanzata così lavoro col coltello non so faccio shopping faccio lavoro col coltello normalmente se lo prendo da qua se lo prendo da qua posso fare un shopping vedete o anche usarlo per colpire qualcosa per tagliare qualcosa in alto è molto comodo quindi a tre posizioni è stato molto studiato e studiato molto bene devo dire perché dopo lì bisogna anche dirselo ha fatto anche tanti ciò fai che ha fatto di coltelli un po così sull'onda della della del di questo gusto un po americano delle cose particolari un tascabile con ottima impugnatura beh ce n'è più di qualcuno il cure della lion steel è uno di quelli però non prendere e spendi qualcosina di più non prendere se anche questo è più igienico ovviamente se lo usi magari anche per la caccia eccetera prenditi la versione wood quella in legno con le guancette in legno intanto alle cortelle di acciaio più lunghe e il manico è più comodo sono sincero è ancora più comodo di questo comunque ho già un manico comodo io ti parlo poi di quelli che ho qua ma ovviamente ce no ne ho anche di più comodi come chiudibili il re con guanna un manico molto comodo molto grande però ovviamente non è molto edc non è molto c'è anche io sono uno che si porta in giro qualche coltello grosso ecco il d10 la d10 scusatemi della costi ha un manico penso che sia uno dei chiudibili che al manico più comodo di tutti è da preferire se anche magari la d15 è più particolare esteticamente può colpire un po di più io la d10 direi che è miglior chiudibile che può essere utilizzato anche come dc anche se inizia essere un po grossettino non grande come misure ma grossettino e come peso è sicuramente uno dei più comodi in assoluto ed è molto performante come coltello a me piacciono e essi e macusta sono belli e in vigi 10 ma ce ne sono cioè coltelli belli ce ne sono se tu vai a vedere l'inderer poi che oltre ad essere belli sono super robusti però ci devi lasciare giù un rene per comprarli se iniziamo a parlare di marche ce ne sono tantissime ragazzi siamo già arrivati all'ora di diretta e vabbè dai visto che siete tanti stiamo qua ancora un po intanto ditemi vi va bene la diretta alle 18 alla domenica dopo sicuramente non sarete tutti d'accordo ci sarà chi avrà più tempo prima che avrà più tempo dopo dopo cena prima di cena quando preferite o dalle 21 in poi o prima delle 21 quindi alle 18 diciamo dalle 18 19 19 30 un'ora un'ora e mezza di diretta e magari scrivetemela poi nei commenti così cercherò di tarare per la prossima diretta che penso di fare o domenica prossima o venerdì a secondo di quello che mi direte voi ma non è va bene in ogni caso la vedo grazie andrea dalle 21 mi dice filippo e vediamo poi la maggioranza dei commenti perché appunto il sondaggio che avevo fatto molti avevano preferito questo orario qua perché ti piace l'acciaio freddo costi hold out mi piace non lo so mi piace è un coltello che mi piace ma ne parleremo beh mi piace perché è una forma particolare è molto 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 comodo è un coltellone grosso ahimè in italia è un casino portasse bravo se vanno nel bosco ne posso portare anche indietro però è molto molto comodo è molto fico diciamocela così per quello che mi riguarda a me personalmente vero magari tanti a tanti fa schifo oltre che è molto robusto anche il tau a tal war mi piace diciamo che la dimensione è questa adesso non ce l'ho qua cellula dovrei alzarmi per andare a prenderlo la dimensione è questa è fatto uguale alle stesse teso manico g10 e dritto però a una forma che mi piace molto molto semplice molto diretta su quelle forme che a me aggranano di più di tante altre forme comodissimo anche il v canter pro v canter però io ne ho due o quello arancico manico arancione in policarbonato io quello col manico in legno non ho quello in alluminio che pensavo di prendermi poi per fare anche un termine di paragone a cui è stata migliorata anche un pochino la lama però ho provato quello di un amico quello in alluminio manico è scomodo e non c'è da fare il mannermann holly faccio da vedere un minuto holly purtroppo di la con mia moglie che che dorme dove la che dorme perché ha fatto un po di caccagnara prima comunque ve la farò vedere dai seguitemi anche su instagram su instagram ogni tanto la metto adesso sto cercando di siccome mi hanno tirato le orecchie il signor youtuber mi ha tirato le orecchie ma detto ma tu usi poco instagram di usare anche instagram va bene userò perché io sono un babbione non sono un ragazzino molto social però ci sto ce la sto mettendo tutta anche grazie all'entusiasmo che voi avete nel seguirmi e quindi mi date entusiasmo e sto cercando di migliorare anche se i miei video non sono molti spettacolari perché non li voglio spettacolari li voglio reali cioè cerco di trasmettere non l'aspetto la spettacolarità ma l'essenziale dell'esperienza che ho cioè se un coltello mi è piaciuto perché mi è piaciuto le caratteristiche tecniche un po come lavora ma anche questi video che devo dirvi la verità non sono neanche difficili da fare questi cinematici no cinematic se voi andate sul sul sito di gennaio sul canale gennaio smart video fotografi ne vedete a pioggia ma non non ti ho facebook dell'istatica eccetera per facebook ma io sono col mio nome dappertutto tranne tranne su twitter che sono col mio vecchio nomignolo sempre ermano azzolini e su 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 facebook sono ermano azzolini adesso troverà se trovate la pagina poi ermano azzolini voi quattro max a k47 lo man re con one molto belli li ho tutti il 4 max è un coltellone di cui ci sarebbe molto da dire c'è sempre il problema che in italia mi raccomando mi raccomando lo dico a tutti la legge in italia è permette solo il giustificato motivo quindi non fidatevi di tante cose che leggete in giro voi dovete avere giustificato siete in campagna buono andate a lavorare nella scatola degli attrezzi potete metterlo in tasca non potreste averlo dopo va anche da regione a regione potete averlo in montagna non potete averlo al bar non potete averlo lo stadio meno che mai in aeroporto ovvero in stazione perché vi arrestano devo essere sincero poi dipende molto le forze dell'ordine e dalle regioni io in sardegna penso non aver mai visto quasi nessuno senza un chiudibile in tasca e mai nessuno avere problemi con le forze dell'ordine se mi ha perquisito o cosa perché la una tradizione molto forte lo stesso dicassi un paio dei valli del piemonte anche una zona qua del veneto sui monti perché solo un modello di chiusura scusami ram safe perché solo un modello chiusura ram safe oppure una chiusura eppure una chiusura fantastica sì ce ne sono tanti modelli di chiusura validi di sicura intendi di sicura validi dei coltelli però pochi che si sono affermati e i più più utilizzati per esempio va molto di moda il liner lo che la nerlock è molto comodo nei coltelli da taglio puro nel coltello che tu utilizzi ti tagli il limone ti apri il panino ti tagli la fascetta eccetera molto bene pratata chiudi apri chiudi apri va bene allora vediamo non so se ne ho uno qua non ce l'ho neanche una fatalità il liner lock ah sì il eccolo qua liner lock questo poi liner lock piuttosto robusto è perché invece per esempio quelli della fox di solito non liner lock piuttosto e quindi tu puoi fare sto giochino e te la divertite la giochi e bisogna evitare i coltelli militari combat sarebbe meglio comprare coltelli per la caccia auto e non cambia molto potresti avere anche un temperino è vero che danno più nell'occhio i combat questo siamo d'accordo però lo scorpion lock mi piace molto ne ho uno sulla di 15 mi piace perché se anche si rompesse la molla tu tenendo la mano chiusa tieni bloccata la lama però allo stesso momento è scomodo perché dà fastidio qua cioè se lo usi coi guanti non c'è nessun problema se lo usi a mano libera se lo usi per per qualche lavoro non per il minuto i due minuti tre minuti ma una mezz'oretta iniziare a romperti la mano oltre che le scatole per questo che preferisco la d10 se devo consigliare a uno che ne può comprare uno solo ha deciso di investire 200 euro e vuole un coltello che sia anche comodo la d10 è migliore a quel punto di vista il tri e il triad log al momento è il tipo di chiusura tra quelli più ventre coltelli più venduti diciamo così sul mercato più performante come sicurezza sicuramente il back lock li va subito dietro e dopo vengono tutti gli altri tutte tutte le altre il questo questo è un frame lock vedete che c'è tutto il frame che va a chiudere e molto comodo anche questo molto pratico zero tolerance è pesante che ti uccide il senso è un signor coltello robusto però secondo me immagini che costa un sesto di questo perché questo viene sui 300 euro anche perché è un modello e questo viene abbiamo detto 50 euro questo ha una chiusura più sicura visto a un back lock ed è più sicura del frame lock noi quando parliamo di sicura in questo caso parliamo di sicura se si abusa un po del coltello è vero se si fa se si taglia il panino salame si intaglia un po di legno si taglia la corda la cordina quello che ci serve si taglia la bistecca eccetera le sicure sono tutte valide se iniziamo a forzare lavorare ovviamente non è più così la sicura quella che loro chiamano rock dei wonder tactical è anche questa una sicura pensate che io ve lo farò vedere poi sull'altro quello il primo modello che è veramente pesante perché questo ha le cartelle in titanio ed è ridotta la dimensione anche nel manico l'altro ha un manicone ed è molto pesante e non ho mai usato il pignoncino io lì ci ho fatto veramente al primo che prendevo l'ho voluto battoni in tutte le forme eccetera non ho mai dovuto usare neanche il pignoncino questo per dire quanto robusta è anche questo tipo di di chiusura però non usano le molle usano una parte delle guancette che è taglia profilata in questa forma e quindi spinge il pignoncino avanti indietro quindi è molto più resistente per esempio della del dell'access lock della della benchmark ecco l'access lock diciamo che viene subito dopo il triad lock se è fatto bene perché dopo li mettono ste mollettine che sono sottili sottili e frame lock della garber 20 euro sì ecco ci sono ci sono anche qua parleremo poi dei vari dei vari tipi di di chiusure per esempio il compression lock è sicuramente più resistente del liner lock se anche il funzionamento è simile ma non è così simile ma li vedremo proprio nei particolari di lama fissa di wonder tattica al cos'hai ciò di lama fissa o il grosso o il links in lince la prima versione di lince di wonder tattica dopo o i mio due quella la versione speciale che hanno fatto no ho anche i cosi aspetta non mi viene in mente il nome adesso si va là l'arteriosclerosi ragazzi ormai le mani a predici che misure in tendi di lama e di manico e anche di peso dipende sempre da quello che ci fai dipende è il discorso che facevamo inizialmente che dici vuoi cosa ci fai con l'idc che ti vuoi prendere cosa ci vuoi fare lo utilizzi prettamente per taglio puro allora può andare bene una lama dai 7 centimetri ai 9 centimetri anche se non è tanto spesso due millimetri e mezzo 3 può andare bene lo utilizzi a dici va beh però io quando vado nel me lo porto dietro anche quando nel vado nel bosco in campania quindi mi serve un coltello un po più robusto allora comincia avere una lama di 9 10 centimetri spessa 45 mm con un tipo di impugnatura o un tipo di loc diverso cioè dipende sempre da quello che ci fai e da come tu te lo intendi hai capito le dici saverio e quindi come manico come cose ce ne sono vari modelli ma è difficile dare un consiglio così su qual è secondo te il migliore perché io ho una mia preferenza personale a me i chiudibili piacciono grossi non è ecco a differenza dei fissi dei lama fissi che mi piacciono piccoli i chiudibili mi piacciono grossi nel senso che piuttosto che una lama da 7 centimetri preferisco una lama da 10 cm non di più anche se ho dei chiudibili più grossi come questo che sono più per una soddisfazione per ma vedremo poi quando farò le recensioni sono più per una cosa particolare che vi racconterò preferisco ecco lame di questa misura di questa misura insomma sui 9 10 cm ecco e sono anche robusti però va sono validi anche per il taglio puro dopo non disdegno paramilitari per dirti però se dovessi scegliere con quali dei due uscire andare nel bosco vado nel bosco con questo non vado nel bosco con questo ma è una questione di gusto mio personale e la will steer la conosco non molto bene però ho toccato con mano alcuni loro prodotti non mi parevano male però non ne ho testati ancora per cui non so darti un'indicazione non so darti un parere definito soprattutto le punte che non siano valide solo per il taglio puro se lo si porta nel bosco si ovviamente sono per il taglio puro si si rischia di romperle ecco se si porta un po sul legno eccetera quell'arancione si chiama cure cure ma la prossima diretta allora faremo una diretta solo sui chiudibili solo si folla per cui ne vedremo parecchi modelli e magari dello stesso modello allora ti farò vedere il wood del cure secondo me se hai la possibilità di spendere qualcosina in più neanche tanto perché a volte sull'amnia per esempio l'amnia.com li trovi costano meno che in italia devo dirlo io ho preso un wood sull'amnia e uno l'ho trovato in offerta non mi ricordo se l'ho preso la passione per i coltelli o dove in offerta sempre wood perché ne ho uno no uno noce e uno in olivo e prenditelo col cosa tanto lo tiri fuori è bellino da vedere più bellino di questo questo arancione è bello perché se ti cade nel bosco lo vedi quello legno se ti cade nel bosco però a il manico è più comodo quello in metallo e piccolo c'era anche la versione mimetica che scaldando si diventava mimetico se non era nero però un po una cavolata filippo 0 0 5 6 a hanno no dici non questo ma dici questo questo lo zero tolerance c'ha ragione leonardo 562 questo invece è il cura ma non sono per un chiudibile da 8,5 un fisso da 15 centimetri sì sì ma li entriamo nei gusti come dicevamo prima nei gusti e negli utilizzi personali cur 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 della lion steel li si entra nei gusti personali e da quello che prettamente si pretende si utilizza mettiamola così io abito in un posto dove si attraverso il paese poi sono in campagna e se faccio un chilometro e mezzo piedi due sono nel bosco in collina e quindi se parto per andare a fare la passeggiata col cane adesso la olie piccolina ma quando sarà un po più grande come il pastore tedesco e se parto piedi così con l'intenzione di fare una passeggiata non devo stare via grazie grazie a mano di me ti puoi immaginare preferisco avere per esempio dico mi porto dietro un chiudibile o mi porto dietro un piccolo fisso però magari mi porto dietro chiudibile lo sia un chiudibile sia un folder preferisco un folder un pochino più robusto capisci però non troppo grosso è anche i coltelli fissi troppo grossi non mi piacciono perché troppo spesso dai coltelli troppo spessi dopo nel taglio vanno bene per spaccar rami ma dopo nel taglio e mano anche io amo i chiudibili grossi perché li uso anche in cucina almeno 9 cm si vogliono bravo leonardo si è presente che io vengo da un'esperienza dove con un coltello dovevo fare un po di tutto e se avevi un fisso e un chiudibile ancora meglio però avevi solo quelli dietro e magari stavi via dei giorni con lo zaino l'armamento eccetera per cui i coltelli condor non sono male no no i condor hanno fatto alcuni ecco e queste aziende come la condor come la q demand fanno delle dei prodotti a volte ottimi a volte delle cavolate dal punto di vista qualitativo ora punto di vista delle forme però quando fanno dei buoni prodotti fanno dei buoni prodotti la condor in generale non lavora assolutamente male lavora il 10 95 in generale se la me sono in 10 95 ed ecco e si è una una uno dei prodotti che si un'azienda che si può consigliare di file salvador per cui il prezzo è buono non utilizza grandi materiali però il prodotto che viene fuori è un prodotto di utilità sicuramente valido sicuramente sicuramente valido se lo comprate con manico in legno metteteci un cordino paracor florescente lungo magari intrecciato bravo ottimo consiglio sì sicuramente dopo anche lì va va esperienza chi preferisce il g10 chi preferisce il legno è come parleremo anche dei foderi vedrete che ci sono di fodere in cuoio che possono andare molto meglio di fodere in kidex il fodere in kidex però spesso sono più pratici e quindi anche per i manici la manicatura sintetica è sicuramente più igienica e più resistente per quanto adesso i i legni vengono ovviamente trattati per cui non è più neanche legno diventano legni sono impregnati di resina per cui stabilizzati li chiamano no vengono chiamati per per cui sono legni veramente che non si deformano eccetera ovviamente sintetico è da preferire come scelta perché è il g10 o la micarta in generale ecco signori siamo alle 19 21 mi avete dato due pareri uno discostante dall'altro sullo radio è la giornata eventualmente spero che mi iscriverete sotto qua ci sta abbandonando anche la luce forse qua c'è un c'è un tempo bestiale allora ha fatto il sole fino a ieri sono sincero qua fino a ieri sul lago di garda pieno di turisti da buttare via alexandra grazie per i consigli no grazie a voi per per essere qua io vi aspetto allora domenica prossima è da decidere se alle 18 o alle 21 vediamo insomma se ci sarà più preponderanza per le 21 o per le 18 per la diretta dopodiché ovviamente mi raccomando iscrivetevi al canale ecco chi di voi è qua che mi segue non è iscritto al canale non vi costa niente è gratuito iscrivetevi al canale devo meno superare i 10.000 per potervi fare dei video anche quotidiana dei piccoli video quotidiani su alcune piccole novità ci sono delle cose interessanti che potrei fare e fra le altre cose è un sostegno che date al canale gratuito perché non vi costa niente poi ve ne dimenticate perché mi seguite una volta sola è lo stesso non è che vi corre dietro qualcuno quindi iscrivete il canale fate iscrivere gli amici chi vuole condividete mettete i pollicioni in su perché anche quelli servono ce l'hanno spiegato bene alla conferenza creator 360 la settimana scorsa grazie tommaso a te grazie sharp e quindi mi raccomando se potete mettete like se potete condividete se potete iscrivetevi perché mi aiutate mi date sostegno io non guadagno niente vedete che sponsor al momento non ne ho mi è stato proposto qualche sponsor sono sincero l'ho rifiutato l'ho rifiutato perché sono un babbione con la barba bianca e piuttosto che raccontarvi palle o dirvi che un prodotto va bene per forza anzi ho acquistato da poco la go 2 insta q2 insta 360 q2 e non è tutto oro quel che luccica come dicono i vari recensori e io dico sempre la mia ha preso anche qualche cazziata anche da qualcuno di voi perché dovevi fare così dovevi far colà però sapete se un prodotto mi convince mi convince io me lo compro lo provo lo utilizzo poi siccome mi serve ore 21 ci sono le partite ma per me va bene allora se ci sono le partite niente da fare ragazzi si fa alle 18 no no perché il calcio batte batte sempre quindi ci vediamo domenica prossima alle 18 eventualmente se vediamo che molti di voi preferiscono giorno un giorno diverso è un orario diverso vedremo poi di centrare l'obiettivo io vi ringrazio siete stati numerosi non vi aspettavo così tanti vi ringrazio tantissimo mi scuso ancora se alle volte non riesco a rispondere a tutti i commenti nei video alcuni commenti vengono attenzione alcuni commenti vengono cancellati ma non da me c'è un nuovo algoritmo che ha messo youtube che dovrebbe contrastare le offese chi mette di link per ogni tanto viene qualcuno ti mette il link del suo sito di un sito porno di queste cose qua e youtube lo concella in automatico per a volte cancella anche qualche vostro commento io questa cosa l'ho già segnalata per cui se avete fatto un commento e non lo trovate più non arrabbiatevi rifatemelo insomma eventualmente diretta davvero molto interessante grazie saverio grazie franco grazie leonardo grazie mario grazie a tutti voi ripeto qualcuno mi ha anche contattato io ho sono stato in videochiamata con qualcuno di voi chi ha bisogno ovviamente nei tempi nei modi che mi sono possibile anche di parlare di qualche prodotto di qualcosa io sono sempre disponibile mi mandate un messaggio e troviamo il modo e il momento cui stare insieme e contattarci vi aspetto domenica prossima vi ringrazio ancora di cuore vi mando un grande saluto qua dal lago di garda sperato che sembra che c'è un vento fuori sembra che stia venendo giù la tempesta ma noi siamo preparati ciao a tutti i ragazzi una buona serata una buona domenica sera un buon lunedì sera anzi a voi tutti ciao